Non ci fidiamo molto dei 5 Stelle per quanto riguarda il discorso in Europa. Sulla mozione di sfiducia, beh sì, abbiamo annunciato che l'avremmo votata e che la voteremo, devo fare una piccola rettifica. Quale? Che prima voglio leggerla. Prima di dire la voto al 100% voglio leggerla. Perché anche qui molto spesso mi è capitato di fare annunci in cui dicevamo sì, 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 votiamo proposte del Movimento 5 Stelle e poi quando le vai a leggere c'era sempre qualcosa che non andava. Quindi lei sta tirando un po' il freno a mano, perché ho visto che anche Salvini, ho sentito il leader del suo partito, ha detto noi la votiamo soprattutto perché vogliamo mandare a casa questo governo. Noi la votiamo perché la vogliamo votare per una semplice ragione di coerenza, perché penso all'ex ministro Idem, penso all'ex ministro Lupi, penso all'ex ministro Guidi, penso all'ex ministro Cancellieri. Sì. Proprio sul ministro Cancellieri l'attuale ministro Boschi disse che per coerenza politica, coerenza politica avrebbe dovuto dare le dimissioni. Sì. Si dice, la Boschi non è stata coerente, Renzi non è stata coerente. Sui due, allora, noi abbiamo fatto un ragionamento e abbiamo detto, allora visto e considerato che nel Partito Democratico se appartieni al gruppo del Giglio Magico sei tutelato, sei anche tenuto a non darle dimissioni. Se invece fai parte di tutti gli altri, gli sfigati, chiamiamoli così, allora devi dare per forza dimissioni per opportunità politica. Allora noi invitiamo e facciamo sì che il Partito Democratico abbia la coerenza di cui parla e di conseguenza chiediamo anche al Partito Democratico di votare le dimissioni, la sfiducia al ministro Lotti. Questa è una più illusione, ma se si parla di coerenza bisogna andare nella stessa linea, opportunità politica.